Sai perché l'idraulico fa sempre visita a tua moglie? È perché ha le tubature più sane delle tue, perché non fuma, non beve e va a correre. I problemi di erezione sono spesso problemi di tubature, nel senso che le arterie non riescono a portare sangue al guerriero calvo per farlo ergere dalle ceneri. Ci sono degli ingredienti naturali che aiutano proprio a tenere pulite, reattive e funzionanti le tue arterie. Primo fra tutti incontriamo l'arginina, precursore dell'ossido nitrico, che ha la funzione di spalancare i vasi sanguigni per far fluire sangue. Unita a vitamina C, D3, B6, B9, B12, Diribogio e K2, ognuna con il suo superpotere specifico. Dalle capacità antiossidanti che combattono l'invecchiamento delle tubature al rafforzare le pareti delle tue arterie. Per ottenere il massimo da questi ingredienti, essi dovrebbero lavorare in squadra e dovrebbero essere formulati in bustine da sciogliere in acqua. Questo non solo aiuta a fare sì che si mettano al lavoro immediatamente senza perdere tempo, ma garantisce anche che l'effetto sia potente e duraturo. Se vuoi evitare che l'idraulico faccia l'ennesima visita a tua moglie, prenditi cura della salute delle tue arterie. Inoltre ti lascio per comodità un integratore completo di tutti gli ingredienti citati, perfettamente dosati e adeguatamente formulati, sul link nel mio profilo. Così la prossima volta che l'idraulico passerà a casa potrebbe essere solo per un caffè.